Caro febbraio, anche tu sei volato. Sei iniziato con il carnevale e devo dire che mi sono davvero divertita. A scuola con il pigiama, poi il carro medievale, e io che divento make-up artist per un giorno. Poi la domenica dedicata alla cucina, prima volta. Il compleanno di tia, e poi quello del mio amore, Fede. Io che mi metto il rossetto rosso. Il sabato pomeriggio al mare, con le mie amiche. E poi l'enel art. Devo dire che con questo mese sono stata davvero brava, per tutte le occasioni. E poi la mia amiche. Alcune hanno anche riprodotto le mini art, davvero tutte brave. Infine, i miei videocomici. I videotag tutti in compagnia. Un mese davvero ricco.